Allora, devo dire una cosa, noi siamo stati qua tre anni fa, tra quattro anni fa Era chiuso? No, 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 era aperto, era aperto, ci stavamo Suonavamo qua con un gruppo che si chiama Idol Lips, quindi qualcuno di voi li conosce, grandissimi Grandissimi, grande Antonio Siamo tornati dopo tre anni, devo dire che l'ambiente è veramente fantastico Ma stasera per me è stata una grandissima sorpresa Perché ho conosciuto delle persone che ho ritrovato, delle persone fantastiche che non vedevo da anni E che non ho mai conosciuto e che ho conosciuto questa sera Quindi ti voglio dedicare veramente tutto il concerto, quello che viene è per loro Mauri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti